buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è giovedì 11 aprile 2024 una giornata a metà settimana con un tempo così così possiamo dire ma comunque dovrebbe migliorare per quanto riguarda il prossimo weekend ci sono tante tante notizie di carattere di cronaca di politica di cultura oggi sui giornali quindi procediamo velocemente a vedere qual è intanto l'almanacco del giorno le previsioni del tempo e poi sfoglieremo insieme le pagine dei giornali il resto del carlino e il corriere adriatico allora il santo del giorno vediamo la grafica eccola qua e santa gemma galgani una santa che visse nel ventesimo secolo insomma siamo tra 1800 così un secolo di grande spiritualità ma anche di grande miseria e di grandi difficoltà per quanto riguarda la salute questi sono i due problemi che hanno caratterizzato la vita di gemma una santa che è nata nel 1878 a camigliano in provincia di lucca visse una vita non facile tra malattie e povertà ma votata a gesù si destinse per il suo attaccamento alla passione del signore fu una grande mistica e ricevette anche il dono delle stimmate questa è san gemma galgani una santa ancora tutta da scoprire ma dotata di grande spiritualità un esempio che rimane lì come un esempio di edificazione per quanto riguarda la fede cattolica le previsioni del tempo ci sono ancora residui piovaschi sul territorio regionale in modo particolare al mattino in provincia di ascoli poi ci sarà un generale miglioramento che caratterizzerà un po tutta la regione marche con schiarite ovunque venti moderati settentrionali sulle coste da nord ovest e nell'introterra da nord est il mare è leggermente mosso e temperature 12 la minima 19 la massima il sole è sorto questa mattina alle 6 e 30 e tramonterà alle 19 e 45 e allora apriamo il giornale abbiamo sulla nostra scrivania il corriere adriatico vediamo la pagina di fano l'apertura dedicata al problema della caserma dei vigili del fuoco una struttura che è in ballo da diverso tempo stava per iniziare i lavori a fano la nuova caserma si realizzerà a chiaruccia in un luogo dove dovrebbero sorgere grandi strutture come per esempio il nuovo palazzetto dello sport e si era pensato in passato anche di erigervi la clinica privata chiaruccia un territorio ancora incontaminato nei pressi del casellino della autostrada a 14 ma anche nei pressi della uscita della superstrada fano grossetto quindi in un punto di grande viabilità e di grande apertura nel territorio da cerniera tra la città di fano e l'introterra insomma un luogo molto molto importante dal punto di vista strategico vediamo il titolo vigili del fuoco sotto organico ci serve una nuova caserma e sono i sindacati che sono saliti alla ribalta cercando di accelerare i tempi per quanto riguarda la realizzazione di questa struttura allora dicevamo che il ministero aveva già stanziato i fondi il comune di fano come stazione appaltante era pronto aveva già assegnato i lavori ed era pronto appunto a dare il via alla fase esecutiva fatto sta che è intervenuto prima il covid poi il grande aumento dei costi delle materie prime e la ditta che aveva ricevuto l'appalto ha disdetto il contratto e tutto si è dovuto ricominciare da capo e allora il ministero ha aumentato i fondi a disposizione da 2 milioni e 200 mila il costo della struttura è aumentato a 4 milioni e 800 mila euro insomma è raddoppiato considerevolmente insomma come aumento di spesa e allora a questo punto l'iter burocratico deve ancora definirsi con la sottoscrizione della convenzione con il demanio per il nuovo aumento dei costi e poi ancora una validazione del progetto e quindi la pubblicazione della gara d'appalto dell'appalto stesso il sindaco Massimo Seri ha preventivato che tutto questo dovrebbe risolversi a brevissimo tempo entro il mese di maggio e speriamo che questa volta sia la volta buona perché i vigili del fuoco di Fano come quelli di Pesaro del resto perché anche a Pesaro c'è il problema della nuova caserma le strutture vecchie non risolvono più le esigenze di una efficiente operazione dei vigili del fuoco sono alla portata di una via molto molto trafficata Fano via Roma a Pesaro la statale 16 che non consentono in pieno nucleo urbano di movimentare i mezzi con una certa efficienza con una certa celerità e poi c'è anche la questione dell'organico manca un 20% di personale a tutto l'organico provinciale dei vigili del fuoco quindi compreso anche Fano ma vediamo come questa notizia è esplosa un po' in concomitanza con la visita a Pesaro a Fano del sottosegretario agli interni che c'è stato proprio l'altro giorno abbiamo riferito appunto nella giornata di ieri la visita dell'esponente di Fratelli d'Italia nella sala della cultura di Palazzo Nolfi a Fano vigili del fuoco sotto organico ci serve una nuova caserma questo è l'appello che viene evidenziato ed ora vediamo le altre notizie ieri è stata presentata una bellissima pubblicazione si tratta di una guida turistica adatta per i bambini è stata presentata dal sindaco Massimo Seri dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli alla presenza di tanti tanti bambini sono gli allunni delle classi quinta A e quinta B della Corridoni, la scuola elementare che fa parte del circolo didattico di San Lazzaro un testo veramente molto bello una guida piena di colori ma una guida curiosa perché fa piacere leggerla è molto molto interessante ci sono giochi, indovinelli, scherzi, curiosità, aneddoti è una guida che non è di da scalica che non è affatto noiosa è piena di belle, di bei disegni di mappe insomma tutto quello che può incuriosire i ragazzi e giocando perché è proprio questo lo scopo della guida leggere giocando giocando si impara si impara le bellezze, imparano le bellezze della città si impara la storia e si impara anche tutto quello che vuol dire l'evolversi degli strati culturali che dall'epoca romana si sono succeduti l'uno sopra l'altro sulla città di Fano la città da scoprire una guida per i bambini intitola oggi il Corriere Adriatico e poi un incidente va fuori strada aveva un tasso alcolico tre volte oltre il limite un giovane di Cartoceto resta pressoché inleso è di 31 anni e di origine tunesine appunto era la guida di una Mazda che ieri alle 15.35 è uscito di strada all'incrocio tra Viale Dante Alighieri e via degli schiavoni a Sassonia secondo i primi accertamenti il conducente andava da nord a sud quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro una rete di recinzione però insomma il suo stato di ebrezza ora dovrebbe così essere conseguente a provenimenti particolarmente incisivi e qui si parla invece in quest'altra apertura del Corriere Adriatico del piano regolatore di Fano il piano regolatore che è in discussione proprio in questi giorni nelle sedute del Consiglio Comunale ne sono state effettuate due ma alla terza c'è stata una defiance ieri sera infatti il Consiglio Comunale non ha avuto luogo per mancanza del numero legale la Presidente Cecchetelli ha fatto l'appello insieme al segretario all'inizio di seduta e ha riscontrato che in aula non era presente il numero sufficiente di consiglieri ebbene la minoranza quando ha visto che la maggioranza non era in grado di assicurare il numero legale è uscita dei banchi facendo appunto venire meno la seduta stessa e ci sono delle osservazioni importanti il Corriere Adriatico insiste nell'evidenziare quella che i residenti hanno presentato a proposito dell'ex zuccherificio che dovrebbe essere trasformato in un polo in un polo che dovrebbe dare la possibilità di insediare alcune aziende per la conservazione di generi alimentari ma tra queste c'è anche qualche azienda che viene contestata come quella della torrefazione delle caffè come quelle che emettono dei odori che non sono graditi ai residenti e allora l'assessorato però respinge questa osservazione sull'input dato anche dalla contradduzione effettuata dai tecnici dell'urbanistica e in questo articolo insomma si articola tutti i pro e tutti i contro rispetto alla sistemazione definitiva dell'ex zuccherificio che rimane così ancora in ballo dopo tanti tanti anni nel corso dei quali se ne sono state dette di tutti i colori e sono state preventivate tante destinazioni in quest'area così complessa e così problematica dopo l'abbattimento delle due torri e del complesso in cui si produceva dello zucchero con la barbabietola nei tempi passati passiamo alla presentazione di un altro libro ieri è stato presentato un libro il secondo volume della Borgata del Cavolo ovvero di Metauriglia a cura del circolo Albatros di Metauriglia è stata rifatta una ricerca in merito ad altre 21 famiglie dopo che nel primo volume oltre una trentina di famiglie avevano fornito le loro testimonianze testimonianze che non sono ristrette al quartiere alla frazione di Metauriglia questa frazione a sud del fiume Metauro caratterizzata da oltre 100 casette del Duce ma i cui rifletti si sono determinati un po' su tutto il territorio comunale su tutta la città di Fano perché è nata poi la produzione del cavolo tardivo è nata una economia fiorente fino a un certo punto della città fino agli anni 50-60 e quindi è stato un momento di grande produzione di grande attività diciamo così tra ortolano e pesca è stato un po' queste le due attività che hanno caratterizzato questa frazione e la ricerca ha messo in evidenza tutto questo sia dal punto culturale sia dal punto di vista culturale che quello economico che quello sociale una vasta ricerca corredata anche di tante fotografie che poi fanno parte dell'ecomuseo che è stato allestito nella frazione allora segnatevi questa data domani alle ore 17.30 alla Memo verrà presentato questo secondo volume ne saranno editi tre manca ancora il terzo il primo è stato già dato alle stampe già distribuito ed ora viene dato il secondo poi abbiamo un convegno interessante di carattere urbanistico che fa riferimento sempre a Metauriglia il 19 di aprile e poi il 27 e il 28 aprile la festa del cavolo la festa del cavolo una bella festa a Metauriglia in cui il cavolo tardivo di Fano costituisce appunto il protagonista principale andiamo a Colli al Metauro a Colli al Metauro è stata sgominata diciamo così è stata individuata la gang di Minorenni che era colpevole di atti di vandalismo filmati i piccoli vandali romanzina alle famiglie la polizia locale identifica i ragazzini incontra i genitori i complimenti del sindaco alle forze dei vigili urbani Pietro Briganti il sindaco di Colli al Metauro si dice soddisfatto perché nelle ultime settimane il corpo di polizia locale guidato dal comandante Paolo Boiani ha messo a segno due importanti interventi di indagine ha individuato grazie all'esame delle telecamere i ragazzini questi ragazzini terribili che compievano atti di vandalismo e poi ha responsabilizzato le famiglie perché poi le famiglie rischiano anche loro perché i danni causati dai loro figli possono essere imputati per essere ripagati alle famiglie stesse ciclo Arzilla c'è il protocollo ma mancano i fondi questa è una infrastruttura che è in ballo come tante altre da diverso tempo un bellissimo itinerario da compiersi in bicicletta da Fano a Monbaroccio stimati 3 milioni e mezzo di euro per la realizzazione il percorso tra Fano Monbaroccio e Pesaro sono questi i comuni interessati perché se si parte da Fano poi si arriva a Santa Maria dell'Arzilla che è in comune di Pesaro e quindi a Monbaroccio che ha un suo comune e abbiamo anche il sindaco Emanuele Petrucci che insomma insiste per la realizzazione di questo collegamento che potrebbe costituire una infrastruttura di grande valore turistico che unisce appunto queste 2-3 località mancano purtroppo i fondi e si cerca appunto di trovare le risorse necessarie vediamo ora altre notizie che riguardano San Costanzo bando per inquilini sfrattati concessi fino a 12 mila euro il comune di San Costanzo interviene in soccorso di morosi incolpevoli chi sono i morosi incolpevoli sono quei affittuari quegli inquilini che hanno sempre pagato l'affitto il canone d'affitto poi magari per cause improvvise una malattia la perdita del lavoro non sono più riusciti a sostenere le loro spese volevano farlo volevano pagarlo ma non non le hanno più fatta ed ecco allora che l'amministrazione comunale giunge in loro soccorso con uno stanziamento facendosi essa stessa garante nei confronti dei proprietari e assolvendo al pagamento delle rate che non sono state onorate però per accedere a questo contributo occorre fare domanda una domanda sottoscritta dal richiedente dal titolare del contratto di locazione e quindi deve essere presentata al comune di San Costanzo ci sono risorse a questo proposito che il comune ha dedicato proprio alla copertura delle insolvenze degli inquilini incolpevoli vediamo anche la pagina di Senigallia questa mattina dedicata a quello che saranno le spiagge durante la stagione estiva spiagge che hanno bisogno per la loro sicurezza anche di un controllo efficace e allora vediamo un attimo quali sono i provenimenti stabilimenti off limits da mezzanotte ma i vigilantes ancora non si trovano e devono essere i vigilantes professionali non basta trovare una persona e dire tu fai il controllo no deve avere una certa una certa validità professionale insomma deve essere esperta prevista anche la possibilità di utilizzare per queste persone che effettueranno i controlli bici elettriche o il quad per poter controllare un maggior tratto di spiaggia e sono controlli che riguardano anche le 24 ore quindi anche le parti notturne che sono quelle più esposte ai rischi poi di vandalismi di comportamenti di comportamenti trasgressivi fatti in spiaggia durante le ore notturne e qua invece vediamo un episodio di cronaca che si è risolto a favore dell'imputato un papà accusato dalla figlia di violenza sessuale sarebbe stato autore di palpeggiamenti durante la notte nel letto insieme alla figlia in realtà il giudice non ha creduto alla figlia e ha assolto il papà era un'accusa infamante il papà veramente ha passato giornate terribili con questo peso che gli pioveva addosso che lo sovraccaricava di responsabilità che non aveva secondo il giudice e al momento dell'assoluzione quasi è svenuto per l'emozione papà mi palpeggiava sotto le coperte i giudici no nessun abuso lo assolvano accusato di violenza sulla figlia quando aveva undici anni e di minacce alla moglie il fatto però non sussiste ebbene si tratta di un cinquantenne senigallese finito in processo appunto sotto processo con questa accusa sfogliamo anche le pagine pesaresi del Corriere Adriatico e parliamo di un provvedimento che ha suscitato il benestare l'ok degli albergatori Viale Trieste pedonale parcheggio gratuito ebbene ad inizio di giugno in Viale Trieste scatterà il nuovo provenimento di pedonalizzazione per il quinto anno consecutivo squadra che vince non si cambia semaforo verde dagli albergatori che chiedono però alcune modifiche alla viabilità un piccolo aggiustamento tanto per migliorare la situazione e per quanto riguarda invece l'aspetto estetico del lungomare di Pesaro c'è un problema un problema che assale le palme queste bellissime piante che decorano i nostri viali in modo particolare sul lungomare ebbene le palme oltre alle malattie che sono un po' trasmigrate dalla Puglia e sono arrivate anche nel nostro territorio vediamo che ci sono delle larve pericolose che minano la salute delle stesse un pericolo per il verde perché poi cosa succede una pianta può infettare altri cento alberi esemplari in tutto il lungomare e quindi c'è un SOS per proteggere questo patrimonio verde che oltre alla bellezza che produce per quanto riguarda il fatto estetico c'è anche una funzione salutare perché come sappiamo le piante hanno una funzione di carattere ecologico molto molto importante per la depurazione dell'aria ed ora diamo un'occhiata a quello che è accaduto a Pesaro per la festa della polizia che si è celebrata nella giornata di ieri più controlli e pattuglie in strada secondo la relazione che ha fatto il questore Francesca Montereali che insieme al prefetto signora Greco ha presenziato alle cerimonie per la festa della polizia ebbene nel consuntivo furti droga e stalking sono stati reati più perseguiti da parte delle forze della polizia secondo quanto poi è emesso nel territorio il questore Montereali controllo contro la criminalità strategie di lungo periodo ebbene in tutto questo periodo nell'anno scorso sono state eseguite 12 misure cautelari tra cui il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare in relazione ai reati del codice rosso quello della violenza contro le donne il questore Francesca Montereali ha sottolineato durante la cerimonia come la criminalità sia un fenomeno complesso servono strategie di lungo periodo per affrontare le cause profonde e allora furti stalking droga sono queste le urgenze del nostro territorio vediamo anche alcuni risultati ci sono state operazioni importanti anche in tema di droga provenienti dal Sud America e Albania così come sono stati incisivi nel gestire 52 casi di codice rosso le forze di polizia e poi ci sono altri dati che riguardano un po' la progressione dei reati nel nostro territorio dati che fanno un po' riflettere su come si deve poi indirizzare sia la strategia delle forze dell'ordine ma anche quella dei comuni e quella della provincia e della prefettura veniamo ora alle altre notizie vediamo come volevo sottolinearvi questa di Urbino acquistata Marche Holiday per noi un salto di qualità affitti di lusso la proprietà passa alla società quotata in borsa Emma Villas e beh è una vera propria rivoluzione quella che investe il settore dell'affitto dell'affitto breve in modo particolare per gli immobiliari di pregio dell'Italia centrale la Emma Villas SPA leader in Italia nel short rent di ville e tenute insomma gli affitti brevi con sede legale a Roma ha acquisito il suo competitor Marche Alide che ha sede ad Acqualagna e quindi ormai tutto fa parte di un pacchetto gestito da un unico referente da un'unica società che è quella appunto di Emma Villas SPA ed ora passiamo al resto del Carlino dove l'apertura è dedicata alla nuova caserma dei pompieri dove si alzano i toni 8 anni al vento 5 milioni sono a rischio e si parla appunto della caserma 4 milioni e 800 era la cifra che vi avevo annunciato prima per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco a Fano a Chiaruccia i sindacati dei vigili del fuoco in pressing sull'amministrazione dopo l'incontro con il sottosegretario Prisco sbrigatevi a indire la gara hanno sollecitato l'amministrazione comunale di Fano che in questo caso funge da soggetto appaltante e quindi è lei che deve fare il bando e lei che lo deve pubblicare e poi attribuire i lavori come abbiamo visto il sindaco ha detto che dovrebbe essere tutto pronto nel mese di maggio ma in questo caso fare sempre le date è sempre un po' rischioso perché poi può sempre capitare qualcosa che proponga un rinvio ed ora parliamo anche del consiglio comunale di ieri sera perché veramente in un momento così importante come quello dell'approvazione del piano regolatore che la maggioranza non riesca a mantenere il numero legale fa un po' pensare troppe assenze salta il consiglio vediamo qui vediamo qui ecco l'articolo che viene pubblicato in spalla sulla prima pagina del resto del carlino la maggioranza non garantisce il numero legale l'opposizione esce dall'aula sciolta la seduta di ieri sera del consiglio comunale e annullate le convocazioni di oggi e domani dedicate alle osservazioni del piano regolatore probabilmente la discussione riprenderà martedì prossimo a deciderlo sarà l'ufficio di presidenza tra gli assenti di ieri sera il sindaco Massimo Seri i consiglieri Giampiero Pedini di azione Cardaluzzi di in comune Federico Perini del partito democratico arrivato in ritardo anche la capogruppo del PD Agnese Giacomoni poi abbiamo una dichiarazione del capogruppo della Lega Gianluca Ilari che dice che la volontà di parte della maggioranza di togliere a Fanesi prima delle primarie la visibilità legata al piano regolatore secondo lui fa parte di quella faida interna che si agita ancora nel seno del partito democratico insomma sarebbe una rivalsa nei confronti a lotte intestini di correnti all'interno del partito democratico nega ogni significato politico invece la Giacomoni aveva assicurato la mia presenza non mi sono sentita bene ho immediatamente avvisato ma la mia presenza non avrebbe garantito perché poi mancavano anche altri consiglieri il numero legale la legge che vorremmo allunni premiati in senato sono gli allunni della scuola Corridoni che hanno visto premiato il loro progetto di costituire una legge a favore della scuola secondo le loro istanze questo articolo fa parte anche di quella notizia della pubblicazione di una guida turistica per bambini che è stata manifestata ieri in una conferenza stampa che è stata convocata nella sala della Concordia e anche il resto del Callino pubblica l'articolo sul Tris di Metauriglia ma mi accorgo che siamo veramente fuori orario per cui sono costretto a interrompere qui la nostra rassegna stampa di questa notizia abbiamo già parlato e allora vi do appuntamento a domani e vi ringrazio per l'ascolto buona giornata a domani a domani a domani Grazie a tutti.